Peccato per la partita, vinciamo 2-7 a 0, è arrivata una sconfitta sicuramente data dal fatto che comunque 2-7 abbiamo giocato molto bene, una buona pallavolo, poi secondo me c'è stato un crollo fisico notevole e da lì ha condizionato un pochettino la nostra partita. Ci prendiamo sicuramente un punticino che fa sempre bene per la quota salvezza, faccio i complimenti ai fisioterapisti perché mi hanno messo in piedi due o tre atlete in due o tre giorni e che non erano sicuramente in condizioni ottimali, ripartiamo, brucia un pochettino questa sconfitta perché per come si era messa sicuramente meritavamo qualcosina in più.